Oggi, per prima cosa, nella mia ora, sistemiamo un po' di pendenze. La prima è, rienutiamo e dimostriamo nel caso generale il dilema dell'ordine. Abbiamo? Allora, facciamo prima il caso sia con 0 appartenente a R, che siano, sia limite di x, 10, a x con i termini, di x su di x, una forma indeterminata del tipo 0 su 0, oppure più o meno di 3. Esistono inoltre F e G sono due funzioni da E a valori in R e x con 0 è un punto di accumulazione. Esistono F' di x e G' di x e x appartenente ad E. Allora, il limite per x tende a x con 0 di F sub gmino di x uguale a L e le prendiamo un numero reale. e poi andremo a... Questo, diciamo, rispetto a quello che abbiamo enunciato giovedì, copre anche il caso più infinito su più infinito. Allora, per quanto riguarda il caso 0 su 0 l'abbiamo già dimostrato. 0 su 0 0 su 0 Fatto, ce lo vediamo. Andiamo a... a... dimostrare il caso in cui ho la forma indeterminata più infinito su... più infinito. consideriamo ora... consideriamo ora... il caso... scrivo brevemente... infinito su... Allora, noi sappiamo... Allora, Allora, sia ε maggiore di 0 e allora noi sappiamo che... esiste... un intorno di x con 0 tale che... un delta maggiore di 0 come richiamate... tale che... se x appattiene a te... x diverso da x con 0 e x meno x con 0 minore di delta abbiamo che f primo di... x su g primo di x meno x meno l in valore assurdo è minore di y diciamo di y mezza Cioè sarebbe a dire... che f primo scritto in altri termini f primo x su g primo di x compreso tra l più y mezza ed l meno di y mezza continuiamo sull'altra line Allora... Allora... sia... x con 1 tale che... x con 1 appartiene a te... e x con 1 meno x con 0 sia... minore di... Allora... andiamo a scrivere... Adesso prendiamo... x... tale che... x meno x con 0 è minore di 0 Andiamo a scrivere... f di x su g di x lo posso scrivere così... come... f di x meno f di x con 1 fratto... g di x meno g di x con 1 per f di x per f di x per g di x meno g di x con 1 g di x In verità qua devo supporre minore di delta primo in maniera tale che esiste delta primo maggiore di zero tale che se prendo x minore di delta primo avrò g di x che lo scrivo qua g di x maggiore del volo assurdo di g di x con uno. Supponiamo che la forma indiremiata sia il tipo più infinito su più infiniti. Il segno non è un problema, i casi sono analogi. Questo è più grande di questo e f di x maggiore di f di x con uno. Adesso lo ripeto. Io cosa ho detto? Io voglio andare a fare questo limite. Conosco questo limite file. Allora, prima di tutto, per la definizione di limite so che se sto abbastanza vicino a x con zero, nel mio insieme, questo rapporto sta abbastanza vicino a me. Adesso, questo rapporto qua lo voglio scrivere in questo modo qua, ok? Adesso poi capiremo perché. Se lo scrivo in questo modo qua però, mi devo assicurare che quello che metto al denominatore sia diverso da zero. Ok? Quindi, questo non c'è andato al numeratore. Sì, questo qua ci sta al numeratore qua. Questo sta al numeratore qua. E quindi, cosa ha bisogno? Bisogna che il modulo di questo oppure che questo numero sia maggiore di questo. Ma questo è possibile perché siccome g di x e f di x tendono a più infinito, questi sono finiti, in un intorno più piccolo sicuramente queste quantità sono così positive. Per sovrammercato, io ho supposto che questo fosse maggiore del modulo di questo e questo fosse maggiore del modulo di questo. E posso farlo ma, o devo anche farlo senza modulo. L'importante è che questi denominatori siano diversi da? Ok. E questo fosse diverso da zero già lo sapevamo, no? Perché per poter scrivere il limite g di x deve essere diverso. Ok. A questo punto, cosa posso dire? Posso dire che questa quantità è uguale a fra f primo di x i fratto g primo di x i per questo, per questo, per f di x fratto f di x meno f di x con uno per g di x meno c di x con uno per g di x. Dove xi chi è? Dove xi? Dove xi meno x con zero è minore di x con uno meno di x con zero. Per questo motivo. E quindi x con uno per x con uno è minore di delta. Inoltre, xi meno x con zero è anche minore di delta primo. Ok. delta' poteva essere più grande di delta quindi quello non poteva non essere un piccolo però diciamo in ogni caso si sarà più vicino a x con 0 sia di delta che di delta' perché? qui abbiamo x con 0 diciamo qui c'avevamo x con 1 ok? allora io cosa ho fatto? ho preso x qua in mezzo scusate, questo non è vero la seconda non mi serve non è vera ma non è vero x l'ho preso abbastanza vicino a x con 0 in maniera tale che quel rapporto si potesse scrivere poi però cosa ho fatto? per passare da qui, da questa uguaglianza a questa uguaglianza, cosa ho fatto? ti sto applicando per un'interma di cosci a quale intervallo lo sto applicando? all'intervallo x con 1x quindi da qualche parte qua in mezzo ci sta un punto x che fa questo esercizio ok? ora vabbè e allora che succede? adesso proviamo a far tendere x a x con 0 allora io osservo osservo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto f di x meno f di x con 1 fa 1 qua è facile perché basta mettere in evidenza f di x e semplificare sopra rimane 1 sotto rimane 1 meno una costante su f di x ma siccome f di x tendeva a più infinito una costante su f di x tendeva a più infinito la costante su f di x tendeva a più infinito preferite faccio passare il limite per x che tende a x con 0 1 fratto 1 meno f di x con 2 fratto a più infinito che fa? similmente l'altro quindi anche il limite che tende per x che tende a x con 0 quindi io mi sto avvicinando a x con 0 di g di x e g di x con 1 fratto g di x oppure questo fa 1 quindi andiamo a vedere un attimo che succede quando mi avvicino a x con 0 guardate x con 1 non si muove rimane visto qua è x che si avvicina a x con 0 tuttavia questo tende a 1 questo tende a 1 x cambia per esempio se io cambio x cambierà tutto x però si mantiene sempre più vicino a x con 0 di x con 1 e quindi più vicino di delta cioè x meno x con 0 rimanere assoluto sarà sempre meno questo che vuol dire? vuol dire che se ci metto x qua dentro qua c'è la g' se ci metto x qua dentro la distanza di questa quantità da L è minore di ε quindi allora adesso cancello un paio di righe qua e scrivo quello che sappiamo se x meno x con 0 è minore di delta primo che è minore di delta lo prendo comunque minore di delta primo allora f' di xi fratto g' di xi è comunque meno L è minore di ε quindi questo sarà compreso tra L più ε e L meno ε queste sono due quantità che tendono a 1 quindi posso dire quindi esiste delta secondo tale che f di x su g di x meno L tale che se se x meno x con 0 è minore di delta secondo che è minore di delta primo che è minore di delta primo x appartenente a t x diverso da allora allora f di x su g di x chi è f di x su g di x? abbiamo visto che è questo prodotto qua allora questo è compreso tra L meno a più sicuro e mezzo e L più a più sicuro e mezzo questo se lo prendo abbastanza vicino se x lo prendo abbastanza vicino a x con 0 è molto vicino a 1 questo invece pure e quindi posso dire che tutto questo meno L sarà minore di x cioè f di x su g di x sarà compreso tra L e per x ed L meno a più sicuro spiegare così scrivo così la stessa questa diciamo questo prodotto deve essere abbastanza vicino a 1 in maniera tale che deve essere minore di 1 più sigma ma in maniera tale che 1 più sigma L più a più sicuro e mezzo sia minore di L e mezzo è inutile fare il volto insomma si capisce che è possibile una volta che sono arrivato qua io dico che ho finito perché? perché io cosa dovremmo dimostrare? dovremmo dimostrare che se x è abbastanza diciamo fissato un'epsio maggiore di 0 la definizione di limite è che se x x con 0 è abbastanza vicino cioè x è abbastanza vicino a x con 0 che sta in e del diverso a questo ingresso il valore della funzione cioè f di x su g di x meno L è minore di x che è quello appunto che ho visto ora l'ho voluto fare in questo caso l'ho voluto fare non ripeto non è un teorema fondamentale molto fondamentale per noi lo useremo qualche ogni tanto lo useremo però siccome lo useremo per esempio l'abbiamo usato diciamo per dimostrare che il limite di L a x su x per x che è teta più infinito fa più infinito proprio nel caso infinito su infinito allora l'ho voluto fare e come vedete la dimostrazione rispetto al caso 0 su 0 è un pochino più implicato perché io il discorso implicato dove nasce nasce dal fatto che se voglio applicare il teorema di Cauchy mi devo scrivere un rapporto incrementale su g lo devo fare rispetto a un punto non lo posso fare in x con 0 come ho fatto l'altra volta perché non lo posso fare perché in x con 0 le funzioni vanno a più infinito quindi non hanno un valore ok allora lo devo fare rispetto a un punto x con 1 ma essendomi premunito che x con 1 era già abbastanza vicino a x con 0 tale che quando vado a fare il rapporto x diciamo quando vado a fare applicare il teorematico Schindler lo x che trovo sia pure lui abbastanza vicino a x con 0 e rimane tale che questo rapporto qui sia molto vicino a L ma se è molto vicino a L il resto tende a 1 e quindi rimane a 1 questa è sostanzialmente l'idea ok o non andrò a fare ok ok se questo limite fa più infinito anche questo limite fa più infinito un po' meno un po' meno va bene vediamo il caso più infinito il caso più infinito il caso più infinito serò ora questo caso qui che poi sarebbe il caso in cui l'abbiamo applicato non lo dimostro però questo qua diciamo la variante che è da fare è minimale cioè non c'è da introdurre obbligazioni del tipo che abbiamo visto cioè il problema vale anche se il limite del rapporto tra le derivate diverge attenzione però che se questo limite non esiste non si può dire nulla sul limite del rapporto delle funzioni cioè l'abbiamo visto l'abbiamo visto con un controesempio lo vedi che in quel caso la cosmo andiamo a fare un'altra variante del non variante un altro caso del teorema dell'Hobital quindi allora questi sono tutti teoremi dell'Hobital siano f e g per esempio definite su una semiretta a valori neri sia limite per x che tende a più infinito di f di x su g di x una forma indeterminale explores x ci siano le derivate esiste il limite del rapporto delle derivate allora anche il limite del rapporto delle tensioni è uguale cioè questo teorema dell'Hobital lo potete applicare alla forma indeterminata a 0 su 0 alla forma indeterminata più infinito alla forma indeterminata più infinito più infinito più infinito, meno infinito, meno infinito a qualunque forma indeterminata poi lo potete applicare quando il limite si fa in un punto x con zero lo potete applicare quando il limite si fa per x che tende a più infinito chiaro? potete applicarlo in tutte le situazioni ogni volta che avete una forma indeterminata e ogni volta che il limite al rapporto delle derivate fa qualcosa diverte, converte allora anche il limite al rapporto delle funzioni fa la stessa cosa andiamo a dimostrare allora se noi facciamo la sostituzione se noi consideriamo phi di y di epsilon uguale oppure phi di x uguale f di 1 su x e gamma di x uguale g di 1 su x allora possiamo dire che il limite andare a studiare il limite per x che tende a zero di phi di x su x su 0 da destra perché quando x tende a zero da destra 1 su x tende a più infinito e qui ci resta gamma di x questo qui è uguale a considerare il limite per x che tende a più infinito di f di x fratto g di x fratto g di x ok o qua se la cosa vi da fastidio potete usare due nomi diversi tanto sono variati quindi se qua scrivo f di 1 su x poi alla posizione pongo y uguale f di 1 su x e allora qua ci metto y alla stessa cosa perché è una variabile nuova ora quindi io so che andare a calcolare questo limite come andare a calcolare questo limite ma questo che chi è? è il limite per x che tende a zero da destra se esiste questo ultimo limite di phi primo di x fratto gamma prima di x cioè se esiste questo esiste questo ma chi è phi primo di x? ora qua devo usare la regola di generazione della funzione composta quindi qua devo fare la derivata prima di f calcolata di 1 su x per meno 1 su x quadro phi di x è la quale f di 1 su x quando vado a derivare meno f primo calcolata di 1 su x per meno 1 su x quadro similmente sotto mi viene g primo di 1 su x che è meno 1 su x quadro ora meno 1 su x quadro si semplifica quindi questo è uguale al limite x per x che tende a zero da destra di f primo di 1 su x fratto g primo di 1 su x ma questo è uguale al limite per x che tende a più infinito 1 su x lo chiamo y quindi tende a più infinito poi lo richiamo di nuovo x di f primo di 1 su x tutte queste uguaglianze vanno lette da destra verso sinistra cioè se esiste questo questo è uguale a questo ma questo è uguale a questo ma questo è uguale a questo ma se esiste questo è uguale a questo che è uguale a questo chiaro? quindi dimostrare il il teorema dell'Opital per x che va più infinito si fa l'ami di un semplice cambio di logica ovviamente se questo limite fosse più infinito non è che devo fare un'altra variante dell'Opital perché funziona lo stesso l'altro ragionamento quindi questo l lo vedete strategicamente non ci ho scritto a parte in nere perché va bene sia se è parte in nere sia se è più infinito quindi praticamente non è che vi verrò a chiedere i dettagli di tutte queste varianti del teorema dell'Opital molto probabilmente no vi chiederò la prima versione e basta però quello che voglio farvi capire è che il teorema dell'Opital dice una cosa generale se esiste il limite del rapporto delle derivate esiste il limite del rapporto delle fusioni ovviamente bisogna partire dalla forma interna perché se no vorrebbe x cubo su x quadro per x che tende a 1 tende a 1 le derivate 3x quadro su 2x per x che tende a 1 tende a 3,5 se non si parte una forma indeterminata non è bene però se si parte una forma indeterminata o del tipo 0 su 0 o del tipo infinito su infinito se esiste il limite del rapporto tra le derivate esiste anche il limite abbiamo anche visto che ci sono dei casi in cui il limite del rapporto delle derivate non esiste ma il limite del rapporto delle fusioni invece esiste e non può esserci un altro caso in cui esistono tutte e due perché se esistono tutte e due sappiamo che le interna dell'Opital sono certe cioè non possono esistere più di essere diversi possono però il limite del rapporto delle funzioni non esiste il limite del rapporto delle derivate non esiste il limite del rapporto delle funzioni esiste ok bene un'altra pendenza che dobbiamo sistemare poi facciamo pausa è la formula di derivazione dell'applicazione composta allora andiamo noi l'abbiamo sostanzialmente dimostrata in un caso particolare adesso però vogliamo vedere che è vera sempre di carriere allora cosa dice questo carriere? derivazione funzione composta ah lì abbiamo f da e g a valori inerro g da f a valori inerro chiamiamolo invece di f che può suggerire l'idea in un semichiuso chiamiamolo e con 1 e con 2 qua abbiamo f di e con 1 contenuto in e con 2 questo per poter fare il prodotto di composizione di di e con 2 e con 2 per definizione g di f di x per ogni x appartenente a e con 1 siccome f di x sta in e con 2 in f di e con 1 e quindi sta in e con 2 g si porta fuori la regola dell'imputo vi ricordate cioè l'immagine della prima funzione deve stare nel dominio se la scuola adesso cosa dice il teorema ci mancano ancora un paio di ipotesi le ipotesi sono che esista diciamo c' di x con 0 scusate f' di x con 0 appartiene a e con 1 o di accumulazione per e con 1 e f di x con 0 di accumulazione per e con 1 naturalmente dovrà anche essere punti e con 1 f di x con 0 cioè devono essere punti questo è automatico che sta in e con 2 perchè sta in f di e con però devono essere anche punti di accumulazione non devono essere punti di accumulazione esiste f di x con 0 ed esiste g' calcolato in f di x con 0 queste sono le cose quando ci sono queste ipotesi un po' che vi sembrano un po' difficili da ricordare sui punti sugli insiemi supponete che i domini siano sempre aperti va bene uguale diciamo io faccio queste ipotesi solo per avere un minimo di generalità in più però in realtà quasi sempre i domini saranno aperti le visure di un aperto e nel caso in cui siano entrambi aperti sicuramente tutti i punti di un aperto sono di accumulazione diciamo non mi vengo a rompere le scatole tante ecco queste sono le cose qual è la tesi? la tesi è che la derivata della funzione composta calcolata in x con 0 è uguale regola della catena a g' di f di x con 0 per f di x con 0 ok? allora dimostrazione devo già fare il primo pezzo della dimostrazione qua osserviamo chi? osserviamo chi? se io scrivo fi di x uguale f di x meno f di x con 0 fratto x con x con 0 per x diverso da x con 0 fine compito poi ci metto f prima di x con 0 quindi x è appartenente x è uguale a x con 0 e continua nel punto x con 0 che significa che il limite di questo è un punto di accumulazione il limite di questo è uguale a questo per definizione per definizione sappiamo che esiste la derivata il limite di rapporto incrementale è uguale alla derivata quindi questa funzione è condivisa con 0 quindi similmente la funzione sigma di y uguale g di y meno g di f di x con 0 fratto y meno f di x con 0 g' calcolato in f di x con 0 questo per y diverso da f di x con 0 questo per y uguale a f di x con 0 anche questa funzione è continua f di x con 0 la stessa cosa per definizione quando y tende a f di x con 0 che è un punto di accumulazione in e con 2 questo è il rapporto incrementale della g fatto di f di x con 0 questa è la derivata calcolata in f di x con 0 per definizione di derivata quella funzione adesso ma preferisco cancellare qua tanto così non perdiamo di vista adesso osservo che la funzione sigma calcolata in f di x per f di x per f di x è uguale abbiamo tre case per f di x è uguale faccio un po' e 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 allora io posso avere tre possibilità x diverso da x con 0 x uguale a x con 0 poi posso avere f di x diverso da x con 0 f di x uguale a f di x con 0 le possibilità non sono due per due e quattro ma sono solo tre perché possiamo avere x uguale x con 0 poi possiamo avere x diverso da x con 0 ma f di x uguale a f di x con 0 poi possiamo avere x perché se x è uguale a x con 0 f di x u ovviamente è uguale a f di x con 0 in questo caso qua non ci sono due possibilità ce n'è una sola quindi non si occupino posso avere x diverso da f di x con 0 e f di x diverso da f di x con 0 quindi queste sono le tre possibilità che posso avere ok adesso che succede? se x uguale a f a e se x uguale a x con 0 allora f di x viene f prima di x con 0 quest'altra viene quanto viene? siccome x uguale a x con 0 f di x uguale a f di x con 0 quindi sigma di f di x con 0 fa g primo di f di x con 0 va vi viene? g primo d'accordo andiamo a vedere quest'altro caso qua se x è diverso da f di x con 0 f di x fa f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 ma se f di x è uguale a f di x con 0 questo qua fa g primo di f di x con 0 questo qua fa g primo di f di x con 0 scusate questo qua fa 0 questo qui quindi è vero che fa f di x o f di x con 0 ma no scusate allora se x diverso da f di x con 0 ma f di x uguale a f di x con 0 faceva quello che ho scritto prima però faceva 0 per g primo di f di x con 0 per g primo di f di x con 0 per g primo di f di x con 0 fratto f di x meno f di x con 0 fratto f di x meno f di x con 0 per f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 questo è il caso che abbiamo visto l'altra volta cioè l'altra volta questo caso qua non c'era perché noi per ipotesi supponevamo che per esempio f primo fosse diverso quindi posso dire sintetizzando posso scrivere che sigma di f di x per f di x è uguale in ogni caso a è uguale in ogni caso a g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x meno x con 0 se x è diverso da x con 0 ed è uguale a g primo di f di x con 0 per f primo di x con 0 se x è uguale a x con 0 allora perché? se stiamo in questo caso basta semplificare e se f di x è diverso da f di x con 0 sicuramente x è diverso da x con 0 quindi siamo in una parte di questo caso se stiamo in questo caso è ovvio l'unico che non è ovvio è questo però però qua quanto mi viene? 0 e qua quanto mi viene? se f di x è uguale a f di x con 0 g di f di x è uguale a g di f di x con 0 quindi o la scrivo così o la scrivo così è la stessa cosa nel momento che sono riuscito ad arrivare a quest'uguaglianza il teorema è dimostrato perché adesso riscrivo questa uguaglianza la voglio scrivere più grande così si vede bene sulla videolezione quindi ripeto abbiamo che sigma di f di x per phi di x è uguale a g di f di x meno g di f di x con 0 fra x meno g di x con 0 per x di x con 0 ed è uguale a g primo di f di x con 0 per f primo di x con 0 se x è uguale a x con 0 se ci pensate un attimo è quello che devo dimostrare perchè questa funzione qua è una funzione continua perchè è una funzione continua questa f di x era continua perchè l'avevamo verificato qui sigma era continua nel suo argomento però sigma composto f è una composizione di due funzioni continue e abbiamo visto per tornare sul limite della funzione composta che la composizione di due funzioni continue è una funzione continua quindi questa è una funzione continua questa è una funzione continua il prodotto di due funzioni continua è una funzione continua ma allora se la funzione è continua il valore della funzione fuori di x con 0 quando vado a fare il limite di x con 0 mi deve dare questo ma allora che cosa ottengo? che il limite di questo rapporto incrementale questo chi è? il rapporto incrementale dell'agito composto f è uguale a questo cioè ottengo esattamente il fatto che quindi lo scrivo qui quindi il limite per x che tende a x con 0 di g di f di x meno g di f x con 0 fratto x meno x con 0 che è uguale a g' di f x con 0 è la regola che volevo dimostrare la regola della cattiva è la regola che volevo dimostrare ok questo è un modo di dimostrarlo in realtà in realtà ve lo dico con un parole un po' più semplice perché la dimostrazione formale è questa qua ve lo spiego con parole un po' più semplice dopo di che facciamo passo allora in realtà il problema è se vi ricordate se f' è diverso da se f' di x con 0 è diverso da 0 il problema non si poneva perché in un intorno del punto questo denominatore è diverso da 0 quindi non posso avere x diverso da x con 0 ed f di x uguale a f di x con 0 no perché la funzione era crescente nel punto quindi crescente o decrescente secondo se f' era quindi questo caso di mezzo non poteva esistere quando esiste questo caso di mezzo che vuol dire? se la funzione f in ogni intorno del punto ha dei valori uguali a f di x con 0 vuol dire che la derivata deve fare 0 e quindi voleva dire che anche questa derivata nella funzione composta deve fare 0 a quel punto non mi interessa quanto faccia questa perché intanto per 0 fa 0 quindi si troverà in ogni caso quindi questo è sostanzialmente il motivo per cui alla fine le cose si trovano detto questo comunque abbiamo dimostrato la regola della catena nel caso generale quindi senza ipotesi aggiuntive quindi ogni volta che voi avete due funzioni e potete fare il prodotto di composizione quando andate a fare la derivata della funzione composta potete usare la regola della catena senza preoccuparti di sapere se la derivata della funzione interna è uguale a 0 diverso a 0 va bene? chiaro? va bene adesso possiamo fare pausa un po' grazie 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 grazie